Encheridion, di Lucio Flavio Arriano, sulla scorta dell'insegnamento di Epiteto di Ierapoli. La realtà umana è costituita da cose che dipendono da ciascuno di noi e da cose che, al contrario, non dipendono da noi. Il nostro completo potere sono giudizio di valore, impulso ad agire, desiderio, avversione e, in una parola, tutto quello che possiamo fare in prima persona. Al di là del nostro diretto controllo si situano la corporeità con i suoi accidenti, i beni che possediamo, le opinioni che gli altri si formano su di noi, il nostro status sociale, la carriera politica e, in breve, tutto quanto non rientra a pieno titolo nella nostra sfera di azione. Ciò che dipende da ciascuno di noi è per sua natura libero e non può essere impedito né ostacolato in alcun modo. Dinanzi a ciò che al di là del nostro diretto controllo, invece, ci troviamo in uno stato di impotenza, di soggezione, di impedimento, di totale estraneità. Ricordati dunque che, se ritieni di avere potere sulle cose che per loro natura non sono a tua libera disposizione, o reputi a far tuo ciò che ti è estraneo, ti capiterà di imbatterti in un ostacolo dopo l'altro, ti sentirai afflitto e inquieto e ne darai la colpa inveendo agli dèi e agli uomini. Al contrario, se consideri di tua pertinenza solo ciò che è effettivamente tuo ed estraneo ciò che è effettivamente estraneo, nessuno potrà più costringerti o impedirti nell'agire, nessuno rimprovererai incolpandolo dei tuoi casi, non farai più nulla contro la tua volontà, da nessuno ti sentirai danneggiato, né ti capiterà di provare rabbia e odio per qualcuno, giacché in effetti non riceverai danno qualcuno. Ebbene, se aspiri a raggiungere una sì felice condizione, sappi che uno sforzo modesto da parte tua non è sufficiente, ma ci sono cose alle quali devi rinunciare definitivamente e altre che occorre, finché sei un principiante, rinviare ad altro momento. Giacché, se ti illudi che i benefici offerti dallo stile di vita filosofico siano conciliabili con l'aspirazione a conquistare cariche pubbliche e ad accumulare ricchezze, corre il rischio di vedere sfumare tali ambizioni per il troppo impegno che dedichi alla filosofia. D'altro canto, di quei beni che soli sono in grado di procurare libertà e felicità, rimarrai sprovvisto. Provo a fare questo esercizio. Quando qualche rappresentazione dolorosa si manifesta alla tua coscienza, concediti un attimo di tempo e aggiungi ad essa questo pensiero. Sei soltanto una rappresentazione, non sei affatto ciò che sembri. Poi esamina attentamente tale rappresentazione e giudicala in base ai criteri a tua disposizione, tenendo presente, soprattutto, la prima regola. Fa parte delle cose che dipendono da noi oppure no. E se si dovesse rivelare non dipendente da noi, abbi già pronta la conclusione. Per me è nulla. Rammenta. Lo scopo del desiderio è di farti ottenere ciò che desideri, mentre quello dell'avversione è di farti evitare ciò che ti dispiace. Chi non riesce a conseguire l'oggetto del proprio desiderio non è soddisfatto, diciamo, non ha fortuna. E d'altro canto, chi si imbatte in ciò che avversa, malaguratamente, ha la sorte contro. Ebbene, se cercherai di evitare, tra le cose che dipendono da te, solamente quelle che sono effettivamente contrarie al naturale corso degli eventi, non incapperai in nulla di ciò che avversi. Invece, se dai credito alla tua avversione per cose come la malattia, la morte, l'indigenza, puntualmente ti scontrerai con ciò che cerchi, vanamente, di evitare. Quindi, sforzati di sopprimere l'avversione per quanto non è in nostro potere e di trasferirla verso quanto, tra ciò che è effettivamente dipende da noi, avverti come contrario al naturale andamento delle cose. Riguardo al desiderio, per ora, cerca di astenertene del tutto. Infatti, se desideri qualcosa che non dipende da te, inevitabilmente, prima o poi, ne rimarrai frustato. D'altro canto, quelle cose che sono realmente in nostro potere e su cui è bene concentrare i propri desideri, per adesso, dato che la tua pratica è solo agli inizi, è opportuno lasciarle da parte. Certo, non puoi smettere di agire nella vita di tutti i giorni. Usa la tua capacità volitiva, scegli attentamente cosa fare e cosa non fare, ma con animo leggero, mantenendo una certa riserva sull'esito dei tuoi comportamenti, con moderazione. Abbi cura di rammentare a te stesso la vera natura di ciascuna cosa che ti attrae o che ti è utile o che ti piace, a cominciare da quelle più piccole. Se ti piace una pentola, di a te stesso, mi piace una pentola. Così, se dovesse rompersi, non ne farai un dramma. Se abbracci tuo figlio o tua moglie, non dimenticarti che stai rivolgendo il tuo affetto a una creatura mortale. Se muore, non ti dorrai oltre misura. Ogni volta che stai per intraprendere un'azione, spendi un attimo del tuo tempo per chiarirti in che cosa consista esattamente e che cosa comporti. Se decidi di andare a fare un bagno, rappresentati in anticipo, nella mente, quanto avviene generalmente nei bagni pubblici. Gente che ti schizza, ti spintona, ti lancia improperi, per non parlare poi dell'adruncolo di turno. Ebbene, ti disporrai a quell'azione con maggiore sicurezza se, in aggiunta, dirai, fra te e te, voglio fare un bagno e nello stesso tempo mantenere la mia scelta di vita conforme a natura. E così via, per qualunque altra faccenda. Di conseguenza, se per caso il tuo bagno dovesse essere disturbato o impedito, ti consolerai pensando, in verità non desideravo soltanto bagnarmi, ma volevo nel contempo che la mia scelta di vita restasse coerente con la natura delle cose, così come si presentano. E se ora abbandono il mio animo al fastidio e all'irritazione, fallirò in ciò che è più importante e che dipende da me solo. Atturbare gli uomini non sono i fatti in sé, ma piuttosto i giudizi che essi formulano sui fatti e le opinioni che li accompagnano. La morte, per esempio, non è nulla di temibile in sé per sé, altrimenti sarebbe apparsa tale anche a Socrate. Ma è il giudizio che formuliamo intorno alla morte, ovvero è il fatto di considerarla un evento terribile che ce la rende tale, ed è precisamente di questo giudizio che bisognerebbe aver paura. Pertanto, quando nella vita ci si presentano delle difficoltà, oppure siamo preoccupati in preda allo scoramento, è vano prendersela con qualcun altro, perché la responsabilità del modo in cui utilizziamo i giudizi è nostra, soltanto nostra. È tipico di chi non ha alcuna educazione filosofica addossare agli altri la colpa dei propri mali, del filosofo alle prime armi prendersela con se stesso, del saggio essere libero da qualsivoglia senso di colpa. Di fronte a un pregio o a un merito che non ti compete, su via, metti a tacere il tuo orgoglio. Se il cavallo si vantasse esclamando, ma che bello che sono! Tanto tanto lo si potrebbe capire, ma se sei tu a menar vanto, ho davvero un bel cavallo, sappi che ti stai attribuendo indebitamente un pregio che in realtà appartiene al tuo cavallo. Che cos'è veramente tuo? Il modo in cui usi le tue rappresentazioni, sicché quando riesci ad armonizzare il tuo giudizio con la natura delle cose, allora, a buon diritto, puoi essere fiero di te stesso, perché di questo unico bene sei davvero padrone. Come nel corso di una traversata per mare, quando la nave getta l'ancora in un porto e metti i piedi a terra per far provvista d'acqua, strada facendo puoi anche raccogliere qualche ammennicolo, che so, una conchiglietta, una piccola radice, ma ti conviene non perder mai di vista la nave e voltarti continuamente indietro, caso mai il nocchiere ti chiamasse, e se ti manda una voce, è meglio che getti via tutto, subito, per non correre il rischio di far tardi e vederti cacciare a bordo a forza, legato come si usa fare con le pecore. Così, nella vita, se al posto di una radice o di una conchiglietta ti procuri una moglie e un figlio, niente ti impedisce di metter su famiglia, di godertela. Ma se il timoniere ti manda a chiamare, corri alla nave senza indugio, abbandona tutto e non voltarti indietro. Se poi sei vecchio, vedi di non allontanarti proprio dalla nave, nemmeno per un momento. L'appello è imminente e non puoi mancare. Non sforzarti di piegare gli accadimenti al tuo volere, ma accoglili così come ti si presentano, dicendo loro di sì, e la tua vita trascorrerà lieta. La malattia è un impaccio per il corpo, ma non lo è per il principio direttivo che determina la tua scelta di vita, a meno che non sia esso stesso a considerarla tale. L'essere zoppo intralcia il tuo incedere, ma non la tua disposizione interiore. Di fronte alle avversità della vita, qualunque sia l'ostacolo che ti si para dinanzi, ripetiti in aggiunta queste parole. Scoprirai in vero che sono di impedimento per qualcos'altro, ma non per te stesso. Ricorda, ogni volta che una rappresentazione bussa le porte della tua coscienza, rivolgiti a te stesso con sollecitudine e cerca di individuare, nella tua interiorità, la facoltà più idonea da adoperare in relazione ad essa. Se vedi un bel fanciullo o una bella ragazza, fruga bene dentro di te e scoprirai che sei in grado di dominare le tue pulsioni erotiche. Se ti tocca affrontare un duro lavoro, troverai la resistenza. Se vieni insultato o deriso, la pazienza. Se riesci a trasformare queste tue potenzialità in solide abitudini, le rappresentazioni non ti travolgeranno più. Non dire mai a proposito di una cosa, l'ho perduta, ma piuttosto l'ho restituita. Ti muore un figlio? L'hai restituito. Tua moglie è defunta? L'hai restituita. Ti è stato portato via un podere? Anche questo, in effetti, l'hai restituito. Ma mi è stato rubato da un farabutto? Cambia forse qualcosa, dal tuo punto di vista che chi te lo aveva imprestato se lo riprenda indietro attraverso un farabutto o attraverso una persona onesta? Per tutto il tempo che ti è concesso di soffrire di questi beni, prenditene cura, tenendo a mente che si tratta di roba altrui, come usano fare i viaggiatori quando trovano alloggio in un albergo. Se vuoi progredire nella pratica della filosofia, metti da parte discorsi del genere. Se non mi preoccupo dei miei affari e delle mie sostanze, non avrò più da che campare. Se non castigo lo schiavo, mi diventerà indolente. Davvero, è meglio morire di fame dopo aver vissuto libero da turbamenti e da timori, che trascinare un'esistenza inquieta, angosciata, nel lusso e nell'abbondanza. Meglio che il tuo schiavo diventi un fannullone, piuttosto che tu, infelice. Comincia dalle piccole cose della vita, quelle in apparenza più insignificanti. Ti si versa un goccio d'olio? Rubano dalla cantina qualche bottiglia del tuo vino preferito. Prendine atto, aggiungendovi, tra te e te, queste considerazioni. Se non voglio essere preda delle passioni, se voglio essere libero dal turbamento, devo pur pagare questo prezzo. Niente si può avere gratis. Quando chiami il tuo schiavo, prima di inquietarti, pensa che potrebbe non udire la tua voce, oppure che potrebbe eseguire malamente i tuoi ordini, ma solo tu, effettivamente, puoi concedergli il potere di privarti o meno della tua tranquillità interiore. Se vuoi progredire nella pratica della filosofia, non preoccuparti di fare la figura dell'idiota o dello sprovveduto per quanto attiene alle cose esteriori, e non sforzarti nemmeno di aver fama di sapiente. Piuttosto, se ti accorgi di godere di buona reputazione presso questi o quelli, non inorgogliere, ma diffida di te stesso. Tieni bene a mente che è difficile mantenersi coerenti con la propria scelta di vita secondo natura e, contemporaneamente, occuparsi dei cosiddetti beni esteriori. Chi si dà pena di procurarsi gli uni inevitabilmente finisce con trascurare l'altra, e viceversa. Desiderare che i tuoi figli, tua moglie, i tuoi amici restino in vita a tempo indeterminato e a ogni costo è da stolto. Equivale a volere che dipenda da te ciò che non è affatto in tuo potere e che quanto non ti appartiene, né ora né mai, sia tuo. Così pure, se ti impunti sul fatto che il tuo schiavo non debba mai commettere uno sbaglio, meriti di essere considerato uno sciocco. È come dire che per te il male morale non appartenga alla natura umana, ma si riferisca non si sa bene a che cosa. È in tuo potere, invece, astenerti dal coltivare quei desideri il cui soddisfacimento non dipende da te. Pertanto, orzù, mira semplicemente a ottenere ciò che è alla tua portata. Chiamiamo padrone colui che dispone, a suo piacimento, della facoltà di concederci o toglierci quello che ciascuno di noi vorrebbe ottenere oppure evitare. Di conseguenza, chi vuole essere davvero libero, faccia in modo di non bramare o avversare mai quelle cose che sono in potestà ad altri, altrimenti dovrà rassegnarsi a essere schiavo. Ricordati, la vita assomiglia a un banchetto, quindi devi comportarti di conseguenza, osservando le regole del galateo. Il piatto di portata, girando tra gli ospiti, è giunto sino a te. Allunga la mano e serviti, ma con moderazione. Passa oltre, non trattenerlo. Tarda ad arrivare dalle tue parti? Non farti prendere dalla smania. Rimani composto e attendi il tuo turno. Adotta un atteggiamento simile a riguardo dei figli, di tua moglie, delle cariche pubbliche, della roba che possiedi, e un giorno sarai degno di sedere a banchetto con gli dèi. Se invece delle vivande che ti vengono offerte non tocchi niente, anzi non le degni nemmeno di uno sguardo, potrai considerarti allora non un semplice convitato degli immortali, ma un loro pari. E agendo in tale maniera, personaggi del calibro di Diogene ed Eraclito si sono guadagnati a buon diritto l'appellativo di uomini divini. Se ti capita di vedere qualcuno che si dispera, versando lacrime, perché suo figlio è stato costretto ad emigrare o perché ha subito un dissesto economico, fai bene attenzione a non lasciarti tu stesso trascinare dalla rappresentazione che egli si è formato a proposito del male che lo affligge, come se effettivamente dipendesse da cause esteriori. Ma tieni a portata di mano questa considerazione. A farlo soffrire non sono gli eventi in sé, qualcun altro, in caso contrario, ne sarebbe altrettanto colpito, bensì il modo in cui egli giudica ciò che agli accade. Non di meno, sii pronto a secondare il suo dolore, pronunziando parole di consolazione. Puoi anche arrivare, se è il caso, a sospirare insieme a lui, ma bada bene che la tua serenità interiore non venga scalfita da lacrime e sospiri. Vivere, non dimenticartelo mai, è come partecipare a una rappresentazione teatrale. Ti muovi sul palcoscenico, attore tra gli attori, e reciti la tua parte, che sia breve o lunga, non dipende da te. È il drammaturgo a scrivere il copione. E se a costui piace che tu impersoni un mendicante, oppure non fa differenza, uno zoppo, un magistrato, un privato cittadino, cerca di farlo nel migliore dei modi. Perché il tuo compito consiste nell'interpretare con bravura il ruolo che ti è stato affibbiato, nulla di più. A sceglierlo provvede qualcun altro. Ti sorprendi a prestare orecchio al gracchio di un corvo, è un cattivo presagio, ti viene subito da pensare. Non lasciarti sopraffare da simile fantasie. Ragiona, facendo la debita distinzione, e aggiungi subito, tra te e te. Segno di malaugurio o no, la cosa non mi riguarda affatto, perché la sfortuna, al limite, potrebbe abbattersi sul mio misero corpo, su quella robetta che ho, sulla reputazione da quattro soldi che mi sono fatto, o sui miei cari, nati mortali. Quanto la mia vera essenza, questo presagio è di buon auspicio, come tutti gli altri del resto. Basta volere che lo siano, perché da me, in ultima istanza, dipende il trarne beneficio, qualunque risultato, essi producano. Vuoi essere invincibile? Non impegnarti in alcun conflitto il cui esito vittorioso non dipenda da te. Tizio, sembra superarti quanto a onori e prestigio. Caio è un personaggio molto potente, sempronio, gode di un'eccellente reputazione per altri motivi. Ci sono uomini più felici al mondo? Vada a non lasciarti ingannare da simili apparenze, perché se la realtà del bene risiede in ciò che dipende da ciascuno di noi, che senso hanno, dopo tutto, sentimenti come l'invidia o la gelosia? Davvero, saresti disposto a sacrificare la tua libertà interiore in cambio della carica di generale, pritano o fin anche console? Per mantenersi liberi non c'è altro modo che coltivare la non curanza e il disprezzo verso ciò che non ci appartiene. A offenderti, ricordatelo sempre, non è chi ti insulta o chi ti percuote, bensì il fatto che tu giudichi tali azioni di per sé offensive. Sicché, quando senti la collera montarti dentro o verso qualcuno, considera che a irritarti altro non è che il tuo giudizio di valore. Prendi tempo, innanzitutto, e vedi di non lasciarti travolgere dalla tua rappresentazione dell'accaduto. Passati i primi momenti, infatti, l'ira tende a sbollire e con un po' di indugio avrai modo di dominarti e contenerti più agevolmente. La morte, l'esilio e tutte quelle cose che ti sembrano particolarmente angosciose e temibili, meditale tenendole dinanzi agli occhi ogni giorno della tua vita. Concentrati soprattutto sull'idea della tua morte. È un ottimo esercizio per evitare di incorrere in pensieri meschini e per non lasciarti travolgere da desideri smodati. Se vuoi seguire la tua vocazione alla filosofia, preparati sindora a essere deriso e punzecchiato dalla gente con battute del genere, ma guarda un po', di punto in bianca si è messo a fare il filosofo, oppure, ma che serioso, chi si crede ad essere con quel cipiglio arrogante. Tu evita di aggrottare la fronte, fuggi la superbia, limitati a seguire quella che, date le circostanze, ti pare la cosa migliore da fare, come se in quel posto ti ci trovassi per ordine del Dio. E ricordati che, se ti mantieni coerente e fedele a te stesso, quelli che in principio si facevano beffe di te diventeranno poi i tuoi ammiratori, ma se ti lascerai vincere dal loro atteggiamento otterrai soltanto risa e umiliazioni doppie. Se un giorno ti accadesse rivolgerti verso ciò che è esteriore per guadagnarti la simpatia di qualcuno, sappi che la tua scelta di vita ne risulterebbe compromessa. Pertanto, in ogni circostanza, accontentati di essere filosofo. Se poi vuoi anche apparire tale, fa che tu paia filosofo a te stesso. Tanto basta. Non stare ad angustiarti rimasticando pensieri del genere. Passerò una vita anonima, senza alcun onore o riconoscimento, non sarò mai nessuno in nessun luogo. Infatti, se è il disonore o male, e in effetti lo è, tanto male non può in alcun modo dipendere da altri, tanto meno la vergogna adesso connessa. Dimmi un po'. Ottenere una carica pubblica o essere invitato a un festino è una faccenda che compete a te? Assolutamente no. E allora perché mai dovrebbe essere un disonore? Come potresti essere? Nessuno e in nessun luogo? Tu che devi curarti solamente di ciò che dipende da te e lì trovare il posto che ti spetta, dove hai la possibilità concreta di accelere? Ma non potrò essere d'aiuto ai miei amici, obietti. Scusa, che cosa intendi con essere d'aiuto? Da te non riceveranno il becco di un quattrino, né li favorirai nell'acquisire la cittadinanza romana. Va bene, però chi ti ha detto che si tratta di cose che dipendono da noi e non da altre persone? Chi può dare agli altri ciò che non possiede di suo? Allora, fai in modo di procurarti del denaro, dirà qualcuno, così quantomeno sarai in grado di farci una donazione? Se posso fare i soldi mantenendomi rispettoso verso ciò che merita rispetto, leale e magnanimo, indicami la strada che mi metto subito all'opera. Ma se pretendere che io perda i beni che sono propriamente miei per consentire a voi di mettere le mani su cose che beni non sono, giudicate voi stessi fino a che punto vi dimostriate ingiusti ed insensati. Che cosa vale di più ai vostri occhi? Un pugno di quattrini oppure un amico leale e rispettoso? Aiutatemi ad esserlo, nel mio e nel vostro stesso interesse, invece di chiedermi di compiere azioni che possano compromettere tali beni. Ma così facendo, si dirà, non potrò essere d'aiuto alla mia patria. Di nuovo, di quale aiuto stai parlando? D'accordo, col tuo concorso non verranno edificati portici né bagni pubblici. Ti meravigli? Non mi risulta che il fabbro le fornisca calzature e il calzolaio le forgi armi. È sufficiente che ciascuno svolga al meglio il proprio compito. Se tu contribuissi a formare e a istruire un altro cittadino leale, onesto e assennato, non le renderesti forse un gran servizio? Direi proprio di sì. Allora non vedo perché mai proprio tu, da filosofo, dovresti risultare inutile alla patria. Ma che posto occuperò io, dice Tizio, nella società civile, nelle istituzioni? Quello che sarai in grado di occupare, continuando a conservare lealtà e rispetto di te stesso. Già che, se volendo essere utile alla città, perderai queste qualità, che beneficio potrai mai fornirle, una volta divenuto sleale e disonesto? A qualcun altro di tua conoscenza è stato concesso l'onore di un invito a cena da parte del potente di turno? O magari ti è stato preferito al momento del saluto lungo la via pubblica? O ancora a lui, lui solo, è stato accordato il privilegio di partecipare al consiglio cittadino? Ebbene, se queste cose sono buone, non puoi fare a meno di rallegrarti per lui. Se invece si tratta di mali, non puoi certo dispiacerti che non siano toccati a te. Ad ogni modo, considera che, siccome tu non ami arrabbattarti per cose che non sono in tuo potere, non puoi nemmeno pretendere di ottenere vantaggi uguali a quelli degli altri. Come può, ad esempio, colui che non ama fare la fila dinanzi all'uscio del patrono, che non si mescola al suo codazzo ciarlante, che non si presta ad ossequiarlo competere con quanti fanno tutte queste cose? Ingiusto e insaziabile saresti a voler mettere le mani sui benefici e i favori che si comprano da ricchi e potenti, così, gratis, senza essere disposto a pagarne il prezzo. A quanto si vende un cespo di lattuga oggi? Un obolo, poniamo. Ora, se un tizio va al mercato, spende un obolo e compra la lattuga, mentre tu l'obolo ti guardi bene dallo sborsarlo e tiri dritto. Se pensi di avere meno di lui, sbagli. Lui si porta a casa la lattuga, ma tu hai ancora l'obolo, non speso, nel borsello. Lo stesso vale per quel che dicevamo. Non sei stato invitato alla cena del tal dei tali? Si vede che non hai voluto pagargli il prezzo a cui vende la sua cena. Si dà il caso che la venda in cambio di salamelecchi, conformismo o ruffianeria. Lo trovi conveniente? Allora pagagli il prezzo che chiede. Ma se pensi di poter avere botte piena e moglie ubriaca, sei un povero illuso, avido per giunta. Al posto della cena, dunque, non ti resta un fico secco? Altroché, ti resta il fatto di non aver dovuto tessere gli elogi di una persona che, a tuo avviso, non li meritava, facendoti violenza o subendo le umiliazioni dei suoi servi fin sull'uscio della porta. E dalle situazioni comuni a tutti, le più quotidiane e umane, che si può imparare a conoscere quale sia la volontà della natura. Un esempio? Al domestico del vicino capita di lasciar cadere a terra il servizio buono. Fragore di vetri rotti. Cose che capitano, te ne esci con estrema naturalezza. Ecco, questo è esattamente lo stesso atteggiamento che dovresti avere nel caso che a rompersi fossero le tue distoviglie. Prova a trasferire tale principio a eventi decisamente più gravi. Il figlio del vicino è morto? Oppure la consorte ad essere passata miglior vita? Non c'è chi non balbetti frase di circostanza. Casi umani. Prima o poi ce ne dobbiamo andare tutti quanti. Ma se a morire è tuo figlio, tua moglie, oddio, sono il più sventurato degli uomini, ti disperi. In una circostanza del genere dovremmo ricordarci di quello che sentivamo e dicevamo quando la disgrazia aveva bussato alla porta del vicino. Che senso ha posizionare un bersaglio affinché l'arciere lo manchi di proposito? Allo stesso modo si può affermare che in questo cosmo il male, per natura, non esiste. Se qualcuno affidasse la tua persona a un perfetto sconosciuto, te la prenderesti, e come? Di mettere la tua interiorità in balia del primo venuto, invece, non ti fai alcuno scrupolo? Basta una parola gettata lì, che ti suona male, e subito, per così poco, ti lasci prendere dal turbamento, vai in confusione? Prima di intraprendere un'azione, valutane con attenzione premesse e conseguenze, altrimenti sul principio ti lascerai trasportare dall'entusiasmo, senza ponderare quel che seguirà, ma poi, alle prime difficoltà, finirai col tirarti indietro. Vuoi vincere alle Olimpiadi? Anch'io, vedi un po'? È una grande impresa. Innanzitutto, però, considera quali siano i presupposti e gli effetti di questa tua decisione, e solo dopo mettiti all'opera. Devi sottoporti a una rigorosa disciplina, seguire una dieta ferrea, via dolci e manicaretti vari, fare allenamento alle ore prestabilite, col caldo e col freddo, non bere acqua gelata, né esagerare col vino. In breve, devi consegnare la tua persona all'allenatore, come faresti con un medico. Poi, finalmente, il giorno della gara. Metti in conto che potrai slogarti un polso, storcerti una caviglia, ingoiare tanta polvere, persino prenderti delle frustate e, dopo tutto, essere battuto. Valuta bene tutte queste cose, e se ne hai ancora voglia, dedicati pure all'atletica, altrimenti farai come i bambini che passano da un gioco all'altro. Ora giocano alla lotta, ora si immaginano gladiatori, poi si mettono a strombazzare, oppure fanno finta di recitare una tragedia. Così anche tu. Oggi atleta, domani duellante, poi retore, poi filosofo. Ma nulla mai veramente con tutta la tua anima. Come un macaco ti metti a scimmiottare tutto quel che vedi, a cambiare balocco a ogni piesso spinto. Perché agisci senza riflettere, senza soppesare la questione sotto ogni punto di vista, ti muovi a casaccio e privo di vera convinzione. Così, ci sono alcuni che, dopo aver conosciuto un filosofo e averlo sentito parlar bene, come Socrate, ma trovatemi qualcuno che sia davvero in grado di reggere il confronto con Socrate, decidono su due piedi di diventare filosofi anch'essi. Caro mio, prima di impegnarti in qualcosa nella vita, esamina con cura la faccenda e mettila in relazione con la tua costituzione. Concepiscila entro i tuoi limiti. Valuta le tue forze. Vuoi darti al pentathlon o alla lotta? Guardati le braccia, le cosce, sentiti lombi. Ciascuno per natura è adatto a fare cose diverse. Davvero pensi di poterti dedicare alla filosofia se continui a mangiare e bere altrettanto, ad arrabbiarti, a fare lo schifiltoso e il delicatino come ora? Dovrai vegliare, faticare, prendere le distanze dei tuoi familiari, subire il disprezzo del primo venuto, la derisione dei benpensanti, essere sminuito in tutto, nella reputazione, nella carriera, dinanzi alla giustizia, in ogni minima faccenda. Pensaci bene, se tu sei disposto ad affrontare tutte queste difficoltà, a sobbarcarti questo regime di vita per ottenere in cambio l'impassibilità, la libertà e la tranquillità dell'anima. Se no, lascia perdere. Non fare il bambino, oggi filosofo, domani pubblico ufficiale, appresso oratore, infine politicante. Sono cose che non si accordano. Devi essere un sol uomo, o buono o cattivo. Devi scegliere se coltivare la tua interiorità oppure disperderti nelle cose esteriori, preoccuparti di ciò che è in te o di ciò che è fuori di te, vale a dire svolgere il ruolo del filosofo oppure quello dell'uomo comune. I doveri si misurano per lo più in base alle relazioni tra individui. Lui è tuo padre? Hai il dovere di prendertene cura, cedergli in tutto, sopportarlo se ti lancia improperi o ti picchia. Ma è un cattivo padre? Può anche essere. Ma vedi, la natura si limita ad assegnarci un padre. Non sta scritto da nessuna parte che debba essere anche un buon padre. Tuo fratello ti ha fatto un torto? Capisco. Tu continua a comportarti come si conviene ad un buon fratello, non darti pensiero di come agisce lui. Preoccupati invece di fare quello che è necessario per mantenere la tua scelta di vita conforme a natura, perché, in verità, nessuno può farti del male se non sei tu a volerlo. Avrai patito un danno, infatti, nel preciso istante in cui tu riterrai di subirlo. Così, se ti abitui a osservare le relazioni che hai con gli altri, ti renderai conto di quali siano i tuoi doveri nei riguardi del concittadino, del vicino di casa o del tuo superiore. Per quanto riguarda il vero spirito religioso, occorre anzitutto coltivare una corretta interpretazione del divino, ovvero ammettere che gli dèi esistono e che governano l'universo in maniera buona e giusta. Di conseguenza è conveniente obbedire e sottometterti di buon grado alle loro leggi, accordando la tua volontà agli eventi, così come ti capiteranno, persuaso che sono il prodotto della più alta intelligente. Forte di tale consapevolezza non li biasimerai né li rimprovererai di trascurarti. Ma a questo risultato potrai giungere solo se ti decidi a rimuovere qualsivoglia concetto di bene e di male dalla sfera delle cose che non dipendono da noi e a trasferirlo in tutto e per tutto in ciò che è davvero in nostro potere. Perché se continuerai a confondere i due ambiti, considerando bene o male ciò che non dipende da te, finirai col maledirti gli dèi quando inevitabilmente ti accadrà di non conseguire quello che vuoi o di incappare in quello che cercavi di evitare. Ogni essere vivente, infatti, è portato per natura da una parte a fuggire quelle cose che gli sembrano dannose e a evitarne le cause, dall'altra a procacciarsi quanto all'apparenza gli è utile e a ricercarne le cause. Così è impossibile che chi si senta danneggiato apprezzi ciò che gli appare come causa del suo male o addirittura gradisca il danno in sé per sé. Per questo il figlio maledice il padre quando costui non lo rende partecipe di quelli che gli paiono beni irrinunciabili. Come è accaduto ad Eteocle e Polinice, fratello contro fratello armato, per contendersi il trono paterno, stimando che la tirannide fosse un bene. Ed è per questo motivo che il contadino, il marinaio, il mercante sono facili alla bestemmia, o che in prega contro gli dèi chi per disgrazia ha perduto la moglie o i figli. La pietà, infatti, segue sempre l'utile. Così chi si cura di armonizzare i propri desideri e le proprie avversioni al naturale ordine delle cose coltiva, al contempo, la giusta devozione nei riguardi del divino. Quanto alle pratiche di culto, li bagioni, sacrifici, offerta di primizie, è opportuno che ciascuno si regoli in base alle usanze della propria terra, con animo puro, senza sciatteria o negligenza, offrendo quel che può, compatibilmente con i propri mezzi. Se vai a consultare un indovino, ricordati che, per quanto tu non sia in grado di prevedere il futuro, stai andando da lui proprio per questo motivo, da filosofo dovresti ben conoscere la vera natura di ciò che accadrà, indifferente. Perché trattandosi di una di quelle cose che non sono sottoposte al nostro arbitrio, non potrà riguardarti affatto, né come bene, né come male. Bussando alla porta dell'indovino, quindi, metti da parte desideri e avversioni, altrimenti ti presenterai a lui tutto tremante. Fatti forte della consapevolezza che qualunque cosa dovesse accaderti sarà per te indifferente, e in nessuna maniera lederà la tua sfera interiore, perché, per quel che ti compete, potrai comunque farne un buon uso. Questo niente e nessuno può togliertelo. Pertanto, rivolgiti con fiducia agli dèi, chiedi loro consiglio e fai tesoro di quanto vorranno dirti. Non dimenticare che i tuoi non sono consiglieri da poco, ti conviene prestar loro ascolto. Fa dunque ricorso alla divinazione, come suggeriva Socrate, ovvero solo in quei casi in cui l'esame della questione riguarda unicamente l'esito di una vicenda e non disponi di altri mezzi, razionali o tecnici che siano, per risolvere il problema. Se, per esempio, ti trovassi a dover affrontare un pericolo per un amico o per la comunità a cui appartieni, sarebbe vano e sconsiderato andare a chiedere all'indovino se è il caso di farlo o meno. Perché, quantunque costui tragga cattivi auspici, segno evidente che rischi di morire, di rimanere invalido o di essere esiliato, la ragione esige che, ciò nonostante, tu stia al fianco del tuo amico e sia disposto a condividere il pericolo con la patria. Non per niente, Apollo Pizio in persona, l'indovino per eccellenza, scacciò dal suo tempio quel tizio che non era venuto in soccorso del suo amico mentre lo stavano assassinando. A questo punto, sforzati di stabilire uno stile di vita ben determinato, un modello cui mantenerti coerente nella pratica sia quando sei solo sia quando intrattieni relazioni con gli altri. Il silenzio è d'oro, parla solo quando è strettamente necessario e in maniera chiara e concisa. Di rado, se la situazione lo richiede, puoi esprimerti più diffusamente, ma evitando la chiacchiera su argomenti futili, gladiatori, corsi di cavalli, atletica, cibi o bevande. E, soprattutto, presta attenzione a non sputare sentenze sulle persone per criticare, elogiare o fare comparazioni. Anzi, se puoi, cerca di spostare la tua e l'altrui conversazione su argomenti dignitosi che meritano di essere trattati. Se ti trovi solo tra estrani, poi, forse è meglio rimanertene del tutto in silenzio. Non ti abbandonare a risa sguaiate. Usa il riso e l'ironia con avvitutezza e parsimonia. Rifiutati di prestare giuramento, se non in quei casi in cui è assolutamente indispensabile. Evita di andare a cena con persone che non conosci o che sai essere strane alla filosofia. Se non puoi proprio evitarlo, ebbene, presta attenzione a non lasciarti coinvolgere dalle maniere della gente comune. Se ti accompagni a chi avvezzo a involgersi nel sudiciume morale, ti schizzerai di fango anche tu, per quanto lindo tu possa essere. tienilo bene a mente. Per quanto concerne la sfera dei bisogni corporali, vale a dire cibo, bevando, abbigliamenti, case, servitù, servitene nei limiti del bisogno. Quello che ha a che fare con l'ostentazione o il lusso, taglialo via. Non abusare del sesso prima del matrimonio. Se ti riesce, mantieni ti casto. A ogni buon conto, non andare oltre il lecito. Evita comunque di fare il bacchettone, criticando loro che si dedicano alle gioie di Eros, o peggio, menando vanto della tua presunta illibatezza. Se vieni a sapere che qualcuno parla male di te, non respingere le critiche, ma tieni pronta la risposta. Senza dubbio, tizio, non era al corrente degli altri miei difetti, che altrimenti non avrebbe parlato solo di questi. Frequentare assiduamente lo stadio o qualche altro spettacolo non è affatto necessario. Ma quando ti capita, preoccupati solo di te stesso, goditi lo spettacolo e vinca il migliore. Fa sì che il tuo desiderio e le tue emozioni siano conformi a ciò che avviene, ed eviterai qualsivoglia frustrazione. Vedi di astenerti del tutto dalle grida, dall'irrisione, dall'eccitazione scomposta. E all'uscita, non perdere tempo in chiacchiere, non lasciarti coinvolgere in insulsaggini. Risparmia le parole per quelle occasioni che possono davvero contribuire al tuo progresso spirituale. E' questo, credimi, il modo corretto di dimostrare che hai apprezzato lo spettacolo. A una lettura o a un seminario pubblico, vacci soltanto se ti senti veramente motivato in termini razionali. E se vi assisti, mantieni un atteggiamento calmo, riflessivo e benevolente. Devi incontrare qualcuno, e in particolare persone che hanno fama di trovarsi in un'opposizione socialmente superiore. Pensa a che cosa avrebbero fatto in tale circostanza un Socrate o uno Zenone, e non avrai difficoltà a comportarti come si deve. Da uomo di potere sai cosa aspettarti. Se ti rechi da lui, difficilmente lo troverai in casa. Se c'è, non è affatto detto che ti riceva, o che non ti faccia sbattere la porta in faccia dai suoi portaborse. E quando anche ti riuscisse di essere ammesso alla sua presenza, probabilmente non ti degnerà della minima attenzione. Supponiamo, tuttavia, che sia tuo dovere fargli visita. Ebbene, disponiti a farlo senza esitazione, e sia quel che sia, inutile a posteriori starsi a tormentare con pensieri del tipo, chi me l'ha fatto fare. È un atteggiamento che non s'addice al filosofo, ma a colui che non è libero, mettendosi in balia delle cose esteriori. Nelle conversazioni parte la vanagloria. Non startene lì a vantarti di quello che hai fatto o dei terribili pericoli che hai corso. Forse a te interessa, e sfogarti dal sollievo, d'accordo. Ma chi ti ascolta può non importare un fico secco, o peggio, risultare sgradevole. Evita la battuta facile, che muove al riso. È un terreno scivoloso, che trascina verso la volgarità, e può farti perdere il rispetto che il prossimo nutre per te. Anche il turpiloquio fino a se stesso è assai rischioso. Se puoi, tiratene fuori, mettendo a tacere chi vi si abbandona. Altrimenti, meglio che teneresti proprio in silenzio, dando a intendere coi fatti e con l'espressione scura o arrossata del viso il tuo fastidio. Quando ti si presenta alla mente la fantasia di un piacere, come per ogni alta rappresentazione, vada a non lasciarti trascinar via dal suo flusso imperioso. Che sia lei ad aspettarti, per conto tuo fa una piccola pausa di riflessione. Prova a metterti davanti agli occhi spassionatamente i due lassi di tempo, quello in cui godrai del piacere e il successivo, quando ti penterai o ti rimprovererai d'averlo fatto. Di contro, immagina la tua contentezza a quel senso di serena dignità che si accompagna alla consapevolezza di non aver ceduto all'evanescenza di quella fantasia. Poi sarai tu a decidere. Se ti sembra opportuno cogliere quest'occasione di godimento, fa pure, agisci. Ma non lasciarti completamente sedurre dalle sue dolci lusinghe. Rimani padrone di te stesso e insieme al piacere ti gusterai il ben più ricco sapore di tale vittoria. Se decidi di fare una cosa che ritieni giusta, non nasconderti agli altri mentre la compi, a prescindere dal giudizio che essi ne diranno. Infatti, delle due l'una, o non stai agendo in maniera corretta, quindi devi evitare l'azione stessa. Oppure stai facendo bene e allora perché mai dovresti temere coloro che ti criticheranno ingiustamente? Come le proposizioni è giorno e e notte hanno significato soltanto se utilizzate disgiuntamente, mentre ci si contraddice se le si usa in congiunzione? Così, quando si partecipa a un banchetto, scegliere la porzione più grande di cibo avrà significato per il tuo corpo, ma suonerà inevitabilmente contraddittorio rispetto allo spirito comunitario del momento. Pertanto, se ti capita di pranzare con altri commensali, vedi di non preoccuparti soltanto del tuo stomaco, ingozzandoti, perché così facendo vieni meno al tuo dovere di ospite. Se assumi un ruolo che va oltre le tue reali capacità, non solo ti esponi a una brutta figura, ma trascuri di svolgere il compito che era effettivamente alla tua portata. come mentre cammini, presti attenzione a non calpestare un chiodo o a non storcerti la caviglia, allo stesso modo bada a non fare nulla che possa compromettere il tuo principio direttivo. Se teniamo ben fermo questo principio in ogni circostanza, ne guadagneremo in sicurezza ed in convinzione. Per quanto concerne il possesso di beni, la giusta misura sono i bisogni del proprio corpo, come il piede lo è per la scarpa. Se ti attieni a questo criterio, senza forzature, con naturalezza, manterrai la giusta misura. Ma se vai oltre, inevitabilmente sarai trascinato in una sequela di eccessi nocivi, destabilizzanti, come precipitare in un dirupo senza riuscire a fermarsi. Così pure, nel caso delle scarpe, se non ti limiti alle semplici necessità dei piedi, ecco saltarne fuori un paio arricchito da dorature, poi uno di porpora e ancora uno d'alta moda, tutto ricami e ghirigori. Quando si passa la giusta misura non c'è più limite, si diventa insaziabili. Da quando una donna compie 14 anni, gli uomini le si rivolgono usando l'appellativo di signora, sicché molte ragazze, conformandosi a uno stereotipo semplicistico della sessualità, finiscono col ritenere che l'unico modo per essere apprezzate consiste nell'usare il proprio corpo come mezzo di seduzione. Quindi cominciano a maneggiare trucchi e belletti, si arrovellano a studiare nuove acconciature e in questo ripongono ogni speranza. Al contrario, sarebbe meglio fare in modo che sentano di meritare rispetto per una condotta modesta, riservata e pudica. Il dedicare troppo tempo ed energie alla cura della propria fisicità denota un carattere debole, poco versato alla filosofia. È tipico di coloro che trasformano in idoli la palestra e i palestrati, che indulgono alle raffinatezze gastronomiche e ai vini doc, che delle necessità naturali e dei piaceri sessuali fanno la loro ragione di vita. Ed è la propria disposizione interiore che occorre prendersi cura, principalmente. Tutto il resto è accessorio. Quando qualcuno ti offende facendo di torto con le sue azioni o dicendo male di te, fermati un attimo a considerare che, dopo tutto, se così agisce e così parla, è perché nel suo intimo è convinto di fare la cosa giusta. Ne potrebbe essere altrimenti, già che egli si comporta necessariamente in base a ciò che a lui, non a te, appare conveniente o doveroso. E se nel valutare ciò che gli sembra tale commette un errore, bene, il problema non è tuo, ma soltanto suo. Sarà lui a subire un danno morale. Poniamo il caso che qualcuno, errando, consideri falsa una proposizione, congiuntiva vera. Non sarà certo la proposizione ad essere danneggiata, essa resterà comunque vera, ma colui che ha espresso un giudizio falso. Forte di tale constatazione, cerca di trattenere con indulgenza e mitezza chi ti insulta, aggiungendo tra te e te all'occorrenza, evidentemente così ha giudicato. Trattalo bene. Come un'anfora, ogni fatto della vita ha due prese. Se provi a prenderlo da un lato, non riesci a sopportarne il peso, mentre dall'altro lo sollevi. Ad esempio, se tuo fratello ti fa un torto, non startene lì a rimuginare, mi ha offeso, non doveva farlo. Se usi questa presa, non ne verrai a capo. Prova a pensare piuttosto, è mio fratello, siamo cresciuti insieme. Da questo manico l'anfora ti riuscirà più lieve. Sono più ricco di te, dunque sono migliore di te. Sono più colto ed eloquente di te, ergo valgo più di te. Dinanzi a ragionamenti del genere c'è poco da discutere, non reggono. Questi sono più concludenti, e attinenti alla realtà. Sono più ricco di te, dunque il mio patrimonio è superiore al tuo. Sono più erudito e facondo di te, ergo il mio eloquio è migliore del tuo. Già che tu, in vero, non sei roba, né denari, non sei nozioni, né retorica. Tizio si lava in fretta. Non dire si lava male, bensì si lava in fretta. Caio beve molto vino. Non dire beve in modo sconveniente, ma semplicemente beve molto vino. Infatti, come puoi dire che sia male prima di esserti fatto un'idea preciso dei motivi per cui essi agiscono in tal modo? Piuttosto, impara a non precipitarti nel giudicare, affinché i tuoi giudizi siano conformi alle rappresentazioni che ricevi e non campati in aria. Non riempirti la bocca col titolo di filosofo. E, in generale, quando ti trovi tra persone comuni, evita di discutere di principi teorici, ma vedi piuttosto di mettere in pratica ciò che tali principi prescrivono. Se ti invitano a cena, fuori, per esempio, non stare a disquisire sul modo in cui si dovrebbe mangiare, ma mangia come si deve. Lo stesso Socrate, tienilo a mente, aveva a tal punto eliminato ogni forma di ostentazione, che, se qualcuno gli chiedeva di fargli conoscere questo o quel maestro di filosofia, lui ce lo accompagnava senza problemi. Tanto accettava di essere considerato. E se, in compagnia di non filosofi, la conversazione dovesse farsi concettosa, cerca, per quanto è possibile, di rimanertene in silenzio. Correresti il rischio di sputar fuori paroloni a rappresentare idee che, magari, non hai ancora ben digerito. Ancora, supponiamo che qualcuno ti voglia stuzzicare dandoti dell'ignorante. Se la cosa, come dovrebbe, ti lascia indifferente, sappi che, proprio per questo, hai iniziato a muovere i primi passi da filosofo. Le pecore dimostrano di aver ben assimilato al loro interno il nutrimento assunto al pascolo, regando al pastore non erba, ma latte e lana. Similmente non metterti a sciorinare dinanzi alla gente comune teorie e concetti morali, ma dimostra ad averli fatti tuoi, incarnandoli col tuo modo d'essere ed agire. Quando avrai adattato il tuo corpo ad una regola di vita frugale ed austera, non fartene motivo di manto. Se a placare la sete ti basta un sorso d'acqua? Bene, non c'è bisogno di farlo notare in ogni occasione. Bevi e dimenticatene. Così, se decidi di esercitarti a sopportare fatiche e disagi, fallo solo per te, che non hai niente da dimostrare a nessuno. Quindi, gesti eclatanti, come bracciare stato e gelate d'inverno, ascetismi estremi, non servono proprio a niente. Se hai la gola a rialza, prendi un sorso d'acqua fresca e sputala, senza che nessuno lo venga a sapere. Atteggiamento è segno distintivo dell'uomo comune. Spera o teme di ricevere benefici o danni sempre dall'esterno e mai da se stesso. Atteggiamento è segno distintivo del filosofo. Si aspetta sempre e soltanto da se stesso qualsiasi utile o danno. Segni che contraddistinguono chi ha intrapreso il cammino della filosofia. Non parla male di alcuno. Non ne tesse le lodi, né biasima, né accusa chi che sia, né si autocelebra, sovrastimando il proprio valore o la propria presunta sapienza. Di fronte a un ostacolo o un impedimento, ne attribuisce la responsabilità solo a sé medesimo. Se si sente lodato, ne sorride eronicamente tra sé e sé. Se qualcuno lo critica, non si difende. Come un convalescente si guarda bene dal rimuovere i medicamenti e dallo stuzzicare la ferita, prima che essa sia completamente guarita. Ha allontanato da sé ogni desiderio. L'avversione, invece, la rivolta verso quelle cose che, rientrando sotto il nostro dominio, risultano non conformi a natura. Per quanto riguarda i moti dell'animo e l'impulso ad agire, in ogni situazione si sforza di gestirli con moderazione. Il fatto che qualcuno lo consideri uno stupido o uno ignorante non lo tange. Insomma, passa il tempo a scrutarsi e a misurarsi con se stesso, come fosse in presenza di un nemico insidioso, qui tendere in boscate. Quando qualcuno si vanta di comprendere e saper ben spiegare il contenuto dei libri di Crisippo, di a te stesso. Se Crisippo non avesse scritto in maniera oscura, il tizio non avrebbe di che vantarsi. Ma io, in verità, cosa vado cercando? Vorrei conoscere le leggi della natura e provare a seguirle. Per questo cerco chi possa spiegarmele. Mi dicono che le opere di Crisippo facciano proprio al caso mio. Dunque mi accosto ad esse. Ma faccio fatica a intenderne il contenuto. Allora mi metto alla ricerca di qualcuno che mi aiuti nella lettura e nello studio. E fin qui non c'è motivo di vanto. Trovato un professore esperto di Crisippo, spetta a me, poi, mettere in pratica i suoi insegnamenti. E di questo soltanto posso a buon diritto andare fiero. Ma se la spiegazione in sé ad avvincermi, l'arte dell'interpretare, la sottigliezza filologica, che cosa avrò concluso? Volevo essere filosofo, imparare a benvivere, e invece eccomi trasformato in un letterato, un esperto di grammatica, con la sola differenza che in luogo di Omero farò l'esegesi di Crisippo. Piuttosto, se qualcuno mi chiede di interpretargli questo o quel passo dell'opera Crisippea, dovrei arrossire di vergogna se non riesco ad armonizzare le mie azioni con i discorsi e con i principi in essa esposti. Ai principi morali che hai giudicato convenienti a guidare il tuo comportamento, attieniti fermamente, come se si trattasse di leggi, la cui trasgressione farebbe di te un empio. Non occorre, invece, porre mente a quel che si dice di te. L'altrui giudizio, non essendo in tuo potere, non ti riguarda più. Vale la pena indugiare ancora a mettere in pratica quanto c'è di meglio per un essere umano, conformando la tua vita ai dettami della ragione? Hai appreso i principi teorici della dottrina e hai avuto modo di intrattenerti e di conversare con chi tali principi applica alla vita quotidiana? Hai ancora bisogno di un maestro che ti riprenda e corregga i tuoi errori? Su via, non sei più un ragazzino ormai, ma un uomo fatto. Se per trascuratezza inizi a rimandare a domani, poi a dopodomani, facendo propositi inconcludenti e posticipando di continuo il momento in cui comincerai a prestare attenzione a te stesso, non farei alcun vero progresso, rimarrai estraneo alla filosofia, tanto in vita che al momento della tua morte. Mettiti in cammino ora. Giudicati degno, infine, di vivere da uomo e da aspirante filosofo. Metti in pratica ciò che ti appare migliore per te stesso, come se si trattasse di una legge inviolabile. E se ti si fa sotto qualcosa di duro e doloroso o di piacevole attraente, o ancora una di quelle eventualità che il senso comune giudicherebbe vantaggiosa o svantaggiosa per la tua reputazione, ebbene, sappi che il combattimento ha già avuto inizio, qui ed ora, che stai gareggiando per le tue personali olimpiadi e non puoi più tirarti indietro. Il destino del tuo progresso morale, la tua salvezza o la tua rovina dipendono da un solo giorno, da una sola occasione. Così Socrate è diventato Socrate, prestando ascolto in ogni circostanza alla voce della ragione e affidandosi alla sua guida. Quanto a te, pur senza essere Socrate, fa in modo di vivere coltivando in te il desiderio di seguire i suoi passi. La cosa più importante in filosofia, la sua essenza più profonda, consiste nell'applicare quotidianamente i principi che si sono appresi, per esempio nel non mentire. In secondo luogo vengono le dimostrazioni, per esempio il sapere argomentare razionalmente che non si deve mentire. In ultimo, l'ambito più propriamente tecnico-concettuale, che sottopone all'analisi e conferma i primi due, per esempio, perché questa è una dimostrazione? E che cos'è propriamente una dimostrazione, una conseguenza logica, una contraddizione? Qual è il criterio per distinguere il vero e il falso? Ora, vada se, il terzo ambito va sviluppato in funzione del secondo, e il secondo in funzione del primo. Ma il più necessario, quello su cui occorre concentrare attenzione e sforzi, è senz'altro il primo. Eppure noi ci ostiniamo a fare il contrario. Indugiamo sul terzo, investendovi tempo ed energie, ma del nostro concreto agire non ci preoccupiamo affatto. Ecco il motivo per cui mentiamo, pur avendo ben chiara, paradossalmente, la dimostrazione razionale che la menzogna non si deve praticare. In ogni circostanza tieni bene a mente questi detti. Conducimi, o Zeus, e tu, destino, là dove era stabilito che io giungessi. Vi seguirò di buon grado, senza esitare, che se provassi a resistervi, per debolezza o stoltezza da voi sarei comunque condotto alla meta che mi è stata assegnata. Chi ha armonizzato il proprio volere all'eterno flusso del tutto, abbarciando il dettame della necessità, ha i nostri occhi un saggio e ha esperienza del divino. Ebbene, Critone, se questa è la volontà degli dèi, così sia. Anito e Meleto avranno pure il potere di mandarmi a morte, ma in nessun modo potranno davvero nuocermi. Fine